Parliamone insieme. Spazio comunicativo a cura dell'amministrazione comunale di Fermo. Buon sabato, buongiorno a tutti. Come ormai tradizione torna all'appuntamento a cura dell'amministrazione comunale di Fermo. Parliamone insieme. Oggi, dopo l'assessore Giustozzi, continuiamo il nostro giro per conoscere meglio anche quelle che sono le varie realtà della città e le varie assessorate. Abbiamo l'assessore ai servizi sociali Zecchini. Buongiorno, assessore Zecchini. Tanti argomenti di cui parlare, quindi iniziamo subito. Anche perché, partendo proprio dalla giornata odierna, c'è un appuntamento importante che tra l'altro riguarda un tema altrettanto importante di cui ricorre la giornata nazionale, ovvero l'anticontro, la violenza sulle donne e appunto il convegno di oggi. Ricordiamo appunto dove si svolge, data, ora, perché è un'importante occasione. Un appuntamento molto importante. Il convegno di oggi sulle donne tra violenza e dignità si svolge nella sala consigliare del commercio, praticamente ex circolo cittadino, oggi alle 17.30. Quindi in camera di commercio. Sì, in camera di commercio e vede la partecipazione della dottoressa Simona Cardinaletti, che tra l'altro è una mia carissima amica, che è tra i referenti più significativi della regione perché appunto è la referente per la casa rifugio, l'unica casa rifugio delle Marche, dico unica purtroppo. E' quindi un nome molto importante rispetto alla problematica della violenza sulle donne. E poi c'è il vicequestore di Benedetto, che da un punto di vista di organizzazione della giustizia è molto in gamba, è molto preparato. E poi vede un esponente dei maschi per l'antiviolenza e poi una collega, perché è psicologa ma anche scrittrice, che presenta appunto un suo libro, Luisa Barbieri, su come le donne possono poi superare, no? Attraverso un'elaborazione del lutto, perché la violenza è un lutto, questo problema è ritornare ad avere una propria dignità d'esistenza. Sì, si parla appunto di dignità eccetera, però purtroppo la cronaca anche degli ultimi mesi, delle ultime settimane, se prima il tema della violenza sulle donne da noi veniva un po' considerato come qualcosa che non ci riguarda, no? Ci sono stati dei fatti purtroppo ultimamente che hanno forse riacceso l'attenzione su questo tema, no? E quindi il fatto stesso di parlarne, di affrontarlo, significa un non vorer far finta di. Esattamente, e voglio precisare questo, che anche l'iniziativa di oggi si contestualizza in un piano progettuale, che io ritengo essere il mio mandato specifico, il mandato dell'assessorato ai servizi sociali attuale, in cui si pensa a una progettualità unitaria per questa città, quindi con un'organizzazione che vada a favore delle scuole, un'organizzazione che vada a favore della gente, della popolazione che può essere in questo momento più sofferente, e che vada a favore poi di una fascia che può essere anche quella femminile, che a me sta molto a cuore. E quindi oggi vuole essere una riflessione rispetto a questo, anche per quanto riguarda il nostro ambiente, le nostre parti, che pur essendo state considerate da sempre tranquille, possono dimostrare, denotare dei segni, dei segnali che non vanno assolutamente trascurati. Quindi la riflessione prevede sia una maggiore consapevolezza, consapevolezza per generare atteggiamenti di contrasto rispetto a questo fenomeno, ma sia anche di prevenzione da parte anche delle donne con una maggiore consapevolezza di sé rispetto per esempio alle dinamiche di coppia, alle dinamiche col maschile in generale. E anche per i ragazzi, io spero che ci siano anche i ragazzi, perché da questo punto di vista possono maturare una cultura dell'identità di genere. Certo. Che è assolutamente importante in questa nostra fascia. Anche perché noi forse pensiamo e diamo per scontato che questi eventi siano un po' indirizzati solo alla categoria femminile, quando invece forse... Assolutamente no, l'identità di genere riguarda sia i maschi che le femmine, perché ricordiamo che la differenza sessuale e biologica, l'identità di genere femminile e maschile riguarda l'identità psicologica, con tutto quello che ne scaturisce anche rispetto a posizioni che possono riguardare la situazione gay, eccetera. Un'apertura su questo problema, su questa dimensione della vita. Certo, e poi l'apertura è un po' il segreto anche della vita, perché senza un'apertura verso quella che è la quotidianità non si scopre quello, non si crea una cultura personale basata sulle esperienze, eccetera, eccetera. Sì, non si crea una cultura collettiva che in questa città è molto importante. In questa città solitamente si funziona, diciamo, un po' a compartimenti stagno e questo non porta a un collegamento delle energie, questa città è ricchissima di energie. E volevo dire anche questo, che un altro compito dell'assessorato, voi mi date una bella occasione stamattina. No, ma è importante, perché io anche sto scoprendo molte sfaccettature. Sì, un'altra caratteristica è quella della metodologia. Essendo una città questa di alta consistenza intellettuale, di humus profondo da un punto di vista appunto di intelligenze e di forze, la possibilità di estrarle, di convocarle e di metterle in raccordo è una metodologia incredibilmente potente e significativa. A questo proposito voglio dire che ci sono due indirizzi in questo mandato. Mi ricollego con quello che dicevo all'inizio. L'indirizzo di lavoro sulla progettualità educativa, perché ferma questa identità, è una città di cultura e di scuola da sempre. Sì. E poi il punto sull'emergenza sociale. Questi due punti si toccano, perché attraverso appunto una metodologia di coordinamento, un lavoro che stiamo facendo tanto con la terza commissione, e io devo ringraziare qui anche fortemente il presidente Patrizio Cardinali, perché siamo molto collegati. La terza commissione è un organismo che funziona molto bene, proprio perché lavora con il coordinamento. Stiamo lavorando sul coordinamento dell'associazionismo, sul coordinamento delle scuole, e adesso ci sarà anche un appuntamento con l'imprenditoria. Vedo perlomeno quello che è il colpo d'occhio da esterno, che si è creato un lavoro di rete anche con gli ambiti sociali, quindi insomma si è venuto a creare, perlomeno credo che il nostro territorio possa veramente rappresentare un modello. L'osso territorio già lo rappresenta, e a me fa piacere dire ai cittadini che forse non lo sanno, che per esempio Fermo è considerata tra le città virtuose, e mi creda ce ne sono solo una trentina nelle Marche, da un punto di vista del garante dell'infanzia, una città sostenibile amica dei bambini e delle ragazze, e magari fra poco possiamo anche parlare della consulta. Abbiamo parlato anche al mondo dell'infanzia, la settimana scorsa, comunque un evento che... Sì, il garante per celebrare l'anniversario dei diritti internazionali dei ragazzi e degli adolescenti, dei bambini e degli adolescenti, ha scelto proprio Fermo e l'evento del mondo dell'infanzia proprio per questo motivo, proprio perché Fermo insieme a Fano, diciamo che ci sono due città di punta, Fano per il nord e Fermo per il centro-sud. E quindi è una città considerata da un punto di vista di modelli educativi e modelli di prevenzione, una città appunto di riferimento. Credo che questo debba essere messo a disposizione, questo tipo di patrimonio dei cittadini è più possibile, facendo capire che l'aver maturato questo tipo di attribuzione, di definizione, fa parte di un percorso di scelte. Ma queste scelte, pure significative, andavano messe in raccordo. Ecco, l'impegno di questo assessorato, l'impegno mio specifico è quello di mettere il raccordo. Questo perché, avendo io una formazione tecnica, diciamo, perché vengo dalle scienze umane, dalle scienze sociali, la progettazione educativa, la progettazione sociale, psicologica, mi è nota. Quindi, umilmente, ho pensato che quello che potevo svolgere nel mio privato l'avrei potuto mettere a disposizione di questa città. Ma infatti la risorsa è questa, ne parlavamo la settimana scorsa con l'assessore Giustozzi, che, come lei, a suo modo, nel suo ambito, ha portato quelle che sono le sue competenze nell'assessorato alla cultura, no? Quindi, nel caso specifico, io, abbiamo, insomma, questa è la prima lunga chiacchierata che ci facciamo e poi in diretta, quindi non abbiamo avuto modo molto, però... Assolutamente stiamo andando a braccio, ma è molto bello, perché la gente altrimenti non è spontanea. Esatto, non ci piacciono le cose troppo finte. Però, allo stesso tempo, insomma, ho delineato e ho capito anche quella che è un po' il suo apporto personale a un settore che, dall'opinione pubblica, poteva essere visto come il settore dei scuolabus, dei buoni pasto e degli aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà. Insomma, il luogo comune era quello e forse veniva visto erroneamente. Quella è una parte, è un aspetto del lavoro. Quella è la David Copperfield, è tutto gentesco. Mentre invece c'è una programmazione che va anche a, come dire, confrontarsi con quella che è una realtà di una cittadina non grande, che però al suo interno ha anche tante sfaccettature. Pensiamo agli stranieri, pensiamo appunto all'età elevata nei centri storici, quindi agli anziani, alle problematiche giovanili, avendo appunto la città, molte scuole al suo interno, quindi insomma tante sfaccettature non facili. Assolutamente non facili, però con un modello di intervento che può essere appunto più di sistema, sistemico, io sono in formazione sistemica, con un modello sistemico riusciamo a collegare queste varie realtà e questo collegamento fa sì che ci possa essere un arricchimento reciproco. Le spiego, martedì nel pomeriggio ci sarà la riunione della consulta dei ragazzi. Immagini come può essere importante che in una città come Fermo, un comparto di ragazzi, ne saranno 48, che rappresentano sia le scuole primarie, sia le scuole medie, quindi superiori di primo grado, sia le scuole superiori di secondo grado, possano cominciare fin da oggi ad essere partecipanti e partecipativi alla vita cittadina, intesa anche in senso politico, nel senso buono del termine. Ad essere informati delle progettualità, ad essere chiamati come consulenza, rispetto ai bisogni specifici quella fascia, immaginiamo questi ragazzi da adulti come possono essere politici nel senso migliore, superando tutte quelle categorie di ristrettezza morale, psicologica della classe politica, quando non guarda al bene cittadino, ma guarda solamente alla propria dimensione personale. Come questo può mettere in crisi una città che ha bisogno di un'operatività forte, oggi più che mai di un'operatività forte e di avere tutte le sue energie attivate. Nella serata di martedì noi faremo il tavolo dell'immigrazione, ma non a Fermo, nello specifico, ma nel proprio quartiere che è chiaramente più critico, che è quello di Lido San Tommaso. Andremo al centro sociale San Tommaso e faremo il tavolo dell'immigrazione, che abbiamo già fatto, però diamo questa continuità proprio per valutare in modo più vicino alla popolazione i bisogni di quella fascia. Dopodiché, come dicevo prima, faremo questa terza commissione con l'imprenditoria e stiamo quindi dicendo che stiamo collegando delle fasce critiche con delle fasce di risorse e con altre fasce che possono essere produttive. E proprio in questo, credo che consulta dei ragazzi sono 48, però questi 48 poi hanno un'azione, tra virgolette, effetto domino, perché si confrontano con i propri compagni di scuola. Esatto, il 48 poi in modo assembleare riferiscono di quelli che sono i punti progettuali da incentivare, da sviluppare, eccetera. Certo, qualcuno ha detto, ah ma così caricati i ragazzi di responsabilità? No, assolutamente, la consulta dal nome è consultiva, no? Facciamo sì che i ragazzi possono essere educati alla partecipazione, no? E quindi al vissuto civico, non basta l'educazione civica nelle scuole. Esatto, ma credo anche che un po' di responsabilità non faccia male. È la corresponsabilità. Esatto, anche perché uno, tra virgolette, una delle pecche della politica attuale vista dai ragazzi, potrebbe essere quella del mancato coinvolgimento proprio di quella che è la loro voce, le loro idee, perché viene vista come una cosa da adulti e spesso e volentieri inaccessibile, anche per chi vuole, insomma. Quindi questa potrebbe essere un'occasione di impegno che va al di là, giustamente, come è giusto che sia, delle scelte politiche che poi quelle maturano nel tempo, eccetera, eccetera. Sì, parliamo di politica nel senso di polis, educazione della vita cittadina e credo che questo sia un passo di una grande significatività. Io mi chiedo come mai in tanto tempo, pur essendo da sempre fermo città di studi, una dimensione di questo tipo non sia stata valutata. Ma vabbè, passiamo, andiamo oltre, adesso c'è. Quindi vorrei anche sottolineare questi passaggi affinché siano noti, no? E affinché ci si confronti proprio su questi elementi di progress in quella che è l'organizzazione della città. Quando una città diventa più partecipativa e più trasparente, è meno possibile che ci siano eventi, no? Tali da essere ombrosi, ambigui, no? Eccetera, eccetera. No, no, è giustissimo, anche perché poi diventano i ragazzi stessi educatori del loro compagno. Non solo, ma anche i tavoli, no? Di confronto. Significa che c'è tanta gente che viene lì e ti chiede ragione di quello che fai e tu rispondi, no? Direttamente, non indirettamente schermato dalla tua scrivania, dal tuo piccolo posto di, diciamo così, di potere. E poi, tra l'altro, ricollegandomi un po' con, parlavamo prima di Sant'Omaso, anche qui, progettualità educativa, ad esempio, ho avuto la fortuna di conoscere come lavorano le insegnanti alla scuola di Sant'Omaso e anche lì veramente abbiamo un'altra eccellenza, perché vengono appunto, ed è bellissimo, vengono proprio mescolate culture, tradizioni, si festeggia le varie, appunto, le varie tradizioni, attività popolari di ciascuna cultura d'appartenenza. Quindi, insomma, quello è un bel esempio. È un laboratorio vivente. Proprio a proposito di questo laboratorio vivente, che è la scuola di Lino Sant'Omaso, anche lì abbiamo aperto la possibilità di un progetto, che è quello della comunità educante, di cui spesso parlo, perché che cos'è la comunità educante? È un progetto educativo che viene attuato nel pomeriggio, a fine tempo scuola, e prevede il sostegno didattico, prevede i laboratori di creatività, di espressività, e quindi la partecipazione di tutti quei ragazzi che possono avere sia un bisogno di maggiore evoluzione cognitiva, ma anche un bisogno di ritrovarsi insieme ad altri, oltre che un supporto per le famiglie e rispetto alle famiglie che lavorano. Per la comunità educante ci sono persone che lavorano in modo volontario, ex insegnanti in pensione, anzi faccio appello di una maggiore partecipazione in questo senso, o altro, persone che vivono questa generosità educativa, e quindi mettono a disposizione del loro tempo, delle loro energie mentali ed umane, per occuparsi dei ragazzi e per far crescere educativamente questo quartiere. Si è attivata quest'anno a Lido San Tommaso e già attiva a Santa Petronilla. E poi vedo che, insomma, avendo genitore insegnante, che insomma il fatto di essere professori insegnanti, maestri, è una cosa che rimane nella vita anche dopo la pensione, quindi credo che questa sia anche una bella occasione per chi volesse continuare a dare il proprio contributo. Perché non richiede chissà quanto tempo. È una bellissima situazione di compartecipazione e quindi ci sono persone veramente in gambissima. Adesso non elenco i nomi perché ne sono tanti. Io ho un'enorme stima di loro e del lavoro che stanno facendo. Questo, per esempio, è un altro passo avanti da un punto di vista organizzativo di questa città, ma è il tutto collegato in questa progettualità per i ragazzi della città sostenibile. La consulta, la comunità educante, Montepacini, la psicologia scolastica, ecco perché parlo di sistema e non di azioni che sono un po' sparse qua e là. Ecco, un elemento che io detesto è dire oggi facciamo questo perché magari riscuote un po' di visibilità, domani facciamo quest'altro e può essere tutt'altro, senza coordinare queste iniziative. Non sono per questo tipo di lavoro. Il lavoro progettuale deve essere un lavoro estremamente coeso. Deve essere un lavoro che legge la città, quindi risponde veramente a quella che è l'identità della città. Anche perché potrebbero essere eventi che forse danno visibilità al momento, ma poi lasciano il tempo che trovano. Esatto, e quando è così è più una visibilità politica che è un vero interesse dei cittadini. Vabbè, però da tecnico questo ce lo conferma come giustamente, insomma, la progettualità è un po' il segreto. Sì, vorrei anche sottolineare qualcosa che certamente è in questa giunta, c'è questa presenza, noi siamo definiti tecnici. Io rivendico per noi tecnici un ruolo politico, come dicevo prima, di Polis. Come tecnici siamo fortemente ispirati dalla Polis. E quello che ci ha motivato, avendo ciascuno una propria professione, vivendo fortemente del proprio lavoro e non della carriera politica, quello che ci ha fortemente ispirato è proprio quest'amore della Polis, proprio nel senso platonico. Certo. E quest'amore della Polis nella misura in cui possiamo essere utili. Ecco questo... No, assolutamente. Poi tra l'altro, insomma, è una scelta apprezzata. Io spesso e volentieri parlando, eccetera, eccetera, dico che non ci penserei minimamente ad impegnarmi, perché so quello che significa, so anche che comunque si mette, tra virgolette, la faccia in un ambito non facile, perché un conto, il riconoscimento professionale, è un conto, una responsabilità civile e indirettamente anche politica, che comunque è un rischio. Quindi già la scelta di esserci rappresenta comunque, al di là di tutto, proprio come base, un servizio alla comunità, e quindi alla Polis, come diceva lei. E poi, ovviamente, le soddisfazioni credo ci sono, perché il poter portare il proprio contributo, anche frutto dell'esperienza lavorativa, e condividerlo nella propria città, nella città che si conosce, eccetera, credo che sia gratificante, no? Sì, 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 lo è assolutamente. Ed è gratificante anche aver trovato colleghi, no? Che possano avere la stessa visione, che possono mettersi in condivisione, e sta succedendo questo. Io sono molto contenta del lavoro della Giunta, nella misura in cui posso avere dei raccordi felici, per esempio posso fare riferimento all'esperienza Torre di Palme, anche altro punto di lavoro, sull'investimento sui poli scolastici periferici, ecco, Lido, San Tommaso e Torre di Palme, dove abbiamo fatto raccordo, insieme a Giustozzi, come Torre di Palme, come centro artistico ambientale, con una valorizzazione forte delle risorse di questo paese bellissimo, e quindi della valorizzazione dell'esperienza scolastica, in un polo che può essere ambientale, perché ha tutte le risorse boschive e marine. C'è un parco bellissimo. Bellissimo. In una fase in cui anche nella scuola cerchiamo la valenza ambientale, ecologica, e la parte artistica, che è lo stesso assolutamente potente, e questa fusione, devo dire, che insieme all'associazione culturale Turris, alle famiglie, alla scuola, con la dirigenza della Coralline, ha prodotto un intreccio di estrema significatività. Quando è stato l'altro giorno, adesso mi sfugge perché c'è un cavallamento, ma è stato pochissimo tempo fa, c'è stato questo evento con Save the Children, no? Sì. E questa colleganza con un momento che è stato veramente bellissimo. Ecco, io credo che questo sia significativo, questo debba essere letto come qualcosa che si può espandere, si può estendere quando prende vita un movimento. E soprattutto anche, come tutte le progettualità, e questo è un po', io lo dico sempre, una pecca tutta italiana, ovvero del chi verrà dopo tagliare totalmente quello che di buono è stato fatto e azzerare tutto, quando invece una progettualità come questa, che comunque comporta un lavoro, un impegno dilazionato e distribuito nel tempo, non può non proseguire perché veramente sono... Lo spero, lo spero, lo spero vivamente perché questo modo di procedere non è autoreferenziale, è come un vestito fatto su misura per una persona, questa persona però è una città, e quindi la continuità. Io apprezzo molto quello che è l'operato fatto dai miei predecessori nella misura in cui questo operato si è rivelato funzionale e lo rispetto. E quindi credo che noi dobbiamo riconoscere le buone azioni al di là delle persone. Mi trovo pienamente d'accordo, assessore. Senta, alleggeriamo, nel senso che parliamo anche dei classici, tra virgolette, so che quando è domani il mercatino del riuso, ad esempio? Domani il mercatino del riuso. Ah, quello è un grande successo che... Esatto, il mercatino del riuso è che lo stesso è veramente significativo perché crea movimento, ancora di più del mercato del salto. Forse si potrebbe fare di servizi sociali e commercio adesso. Sì, perché veramente lei ha proprio incrociato il mio desiderio. Io vorrei che fosse sempre più intrecciato questo settore dei servizi sociali e dell'ambito sociale che è il destino dei servizi sociali e quindi del territorio, no? Con iniziative che sono iniziative non assolutamente onerose, no? Tutt'altro, perché hanno lo spirito appunto del riuso. Anzi, investe anche la sensibilizzazione verso l'ambiente. Esatto, creano fortemente solidarietà sociale sono un momento di incrocio tra bambini, adulti e quindi con tutto quello che può essere il dinamismo dei mercatini, no? E crea anche quindi un po' di brio nella città. Affermo, viene rimproverata la mancanza di brio e anche una signora elegante di cultura però c'è questo rimproverso. Beh, io credo che è appunto il mercatino del riuso, no? Con la presenza dei bambini, di attività di lettura, quindi di attività anche educative, no? Sì, potrebbe essere un punto di incontro anche mensile, per esempio, nella misura in cui, affermo, diventano sempre più visibili e gli spazi identitari, cioè gli spazi previsti proprio per attività di questo tipo, no? E credo proprio che questi eventi, che apparentemente, insomma, sono mercatini, insomma, semplici, eccetera, però hanno alle spalle, e questo è la bellezza del suo assessorato, tanti risvolti positivi, ovvero rafforza nel senso di comunità, parliamo anche di occasioni per chi è in difficoltà per poter prendere oggetti utili per la vita quotidiana, sensibilizzazione verso le tematiche ambientali, perché spesso e volentieri siamo abituati a buttare oggetti, abbigliamenti, abbigliamento che praticamente è nuovo, no? Quindi, insomma... Beh, immaginiamo in questo momento come può essere importante, ma al di là di quello che può essere l'emergenza sociale, che pure c'è però, e quindi c'è bisogno anche di iniziative di questo genere, proprio l'idea di poter evitare lo spreco, di poter evitare, no, il consumismo a piene mani, di poter far sì di creare anche tra le mamme solidarietà di scambio, no? Immaginiamo che i bambini, no, siccome crescono, e tutto quello che riguarda l'abbigliamento, eccetera, è un ricambio continuo, quindi immaginiamo come può essere di forte solidarietà appunto un'iniziativa che apparentemente sembra un'iniziativa così un po' semplice. Semplice, ma di grande successo, no? Sicuramente lo sarà anche domenica. Poi avremo tanti argomenti, assessore, qui ogni tanto mi prendo un appunto perché mi vengono nuove domande dal riordino degli ambiti sociali, anche quello un altro tema importante perché da lì ne va anche della programmazione territoriale, no? Sì, esattamente. Ritorniamo su un argomento... Parlando di progettualità anche in conclusione. Sì, l'ambito sociale ritengo che sia un'idea veramente grandiosa che sta permettendo a tutto il territorio del Fermano di entrare in omogeneità rispetto a molte iniziative e anche da un punto di vista economico, no? È assolutamente la soluzione perché altrimenti i piccoli comuni non potrebbero sostenere assolutamente, non avrebbero veramente la possibilità in termini di soldi di poter sostenere iniziative che sono invece oggi essenziali per una comunità sociale. Quindi l'essere messi a sistema, no? In quello che è l'ambito territoriale sta permettendo tutta una serie di interventi fondamentali per le comunità umane. Siamo nel 2014 e quindi i bisogni sono i bisogni del 2014 che poi è ormai a fine percorso e io credo che su questo bisogna essere sempre più compatti e superare le diffidenze e superare le stranità e rendersi conto che è un potere comune quello dell'essere associati e anzi potenziare questo meccanismo dell'associazione perché solo così sia i referenti forti anche da un punto di vista regionale e gestire quei diritti legati ai progetti che fa sì che poi ci possono essere iniziative significative perché ci sono magari dei fondi per l'organizzazione sociale e culturale del territorio. E questo credo assessore lei ha colto proprio quella che deve essere la strategia futura sia parlando di ero insomma lunedì martedì mercoledì ero a Bruxelles e parlando con un po' gli addetti al lavoro mi dicevano che il futuro della progettazione anche per ottenere fondi è proprio quello di creare progetti di squadra che abbiano un peso come nella comunità europea così come in ambito locale il discorso è sempre quello insomma cambia poco assolutamente sistemico esatto è il discorso dell'insieme delle parti e non della somma delle parti esatto e credo che è questo il futuro per avere un peso in tutti gli ambiti regionale nazionale e europeo quindi fare squadra una progettualità quanto mai condivisa per poi ottenere visto il suo peso quelli che sono i giusti finanziamenti perché servono soldi riconoscimenti eccetera eccetera esattamente io la ringrazio assessore quando vuole siamo qua così continuiamo la nostra chiacchierata ringrazio lei voi e ringrazio i cittadini per la fiducia per la stima e speriamo di poter continuare a fare un buon lavoro assolutamente ricordiamo questa sera alle 17 nella sala consigliare della camera di commercio il convegno come donne tra violenza e dignità e le auguro buon lavoro e buon fine settimana grazie grazie tante parliamone insieme parliamone insieme spazio comunicativo a cura dell'amministrazione comunale di Fede